Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Il governo starebbe pensando all'abolizione del Green Pass. Vediamo insieme i dettagli in questo breve video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Secondo le ultime notizie, il governo si starebbe preparando ad allargare ulteriormente le maglie delle misure per la prevenzione dei contagi da Covid-19. La pandemia sta infatti allentando la sua presa e sembrerebbe che il governo stia addirittura pensando all'abolizione del Green Pass. L'abolizione del Green Pass è un'ipotesi su cui stiamo ragionando, ha affermato sottosegretario alla salute Andrea Costa. Credo che fortunatamente ormai da parecchi giorni i dati relativi alla pandemia siano dati positivi che mettono in evidenza anche un allentamento della pressione sui nostri ospedali e questo è certamente l'elemento più positivo oltre che la riduzione dei contagi. Riguardo invece l'ipotesi di togliere l'obbligo delle mascherine al chiuso, sottosegretario ha spiegato che è un tema sul quale stiamo riflettendo. Abbiamo dato un primo segnale con l'eliminazione delle mascherine all'aperto e certamente nelle prossime settimane valuteremo la questione anche qui facendo delle valutazioni tra quelli che sono i luoghi più affollati rispetto a quelli dove c'è minore concentrazione di persone. Dobbiamo però affrontare tutto con gradualità. A concluso e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.